buongiorno a tutti anzi per voi sarà una buona notte perché state dormendo io ormai manca poco al mio arrivo in Giappone mi hanno portato da bere ho preso un sacco di mela guardate adesso non si è visto però comunque sono molto vicino alla meta dovremmo arrivare in Giappone alle 11.16 e adesso sono le 9 guardate andate fuori questo è il mio succo di mela appena passata l'hostess non voleva prendersi il bicchiere ma ovviamente non glielo ho dato meno 70 gradi fuori ormai manca davvero poco e ci vediamo poi con un altro video dopo che se non è giuro sarà terrato a Tokyo ciao ciao